C'è chi sostiene che ci siano un po' di problemi in casa PlayStation, adesso vedremo però chi è la fonte di tutto questo. Microsoft Activision, dopo la telenovela c'è un commento piuttosto interessante e poi c'è stato un evento Xbox di cui parleremo con tutti quanti gli annunci. Questo è altro nella puntata di oggi. Ben trovati su Crystal News, gente, un saluto a tutti quelli che stanno seguendo questo episodio su YouTube oppure sul podcast. Bene ragazzi, proprio un po' di ore fa eravamo in live a vedere un evento Xbox dedicato alle aziende di terze parti, ovvero dei partner di Xbox che presentavano all'interno di questo evento un po' di titoli. Non grandi aspettative, devo dire un evento minore, però ci sono state comunque alcune cose interessanti e una serie di annunci notevoli, tra cui una sorpresa che onestamente davvero non mi aspettavo. Quindi, vediamo un po' quali sono stati gli annunci. Quante sorprese all'Xbox Partner Preview? Il riassunto degli annunci. Tanto tono che piove, verrebbe esclamarri pensando ai tanti annunci che hanno caratterizzato l'Xbox Partner Preview. L'evento mediatico è stato davvero ricco di sorprese, con 30 minuti video che hanno aperto una finestra sull'università di moltiplici titoli third party. Onestamente non sarei così, diciamo, entusiastico stando a quello che hanno presentato, però comunque ci sono state tante belle cosette. A piedi del Valzer c'è stato Siga e il team di Ryuga Kotoku con un videogameplay sulle attività di Like a Dragon Infinite Wealth. Approfondimento che sintetizza alla perfezione la frizzante esperienza di gioco promessa c'è all'autore giapponese. Vi possiamo capire l'ormai ex serie Yakuza. Una roba, ragazzi, che lì per lì non capivo davvero cosa fosse. Sembrava uno spin-off. Cioè, uno spin-off dello spin-off. Perché lì per lì sembrava praticamente Animal Crossing, però con i protagonisti di Yakuza. Quindi lì per lì siamo rimasti tutti un tantinello, ma che diavolo sta succedendo? E invece, vabbè, queste follie fanno parte della serie da tanti punti di vista, ok? Poi è poi entrato nel vivo con il gameplay reveal di Steel Wakes the Deep, l'avventura horror di The Chinese Room, che porterà i fan del genere all'interno di una piattaforma petrolifera in porcinto di affondare nel mare del nord. In sostanza, una cosa molto thriller, un tantinello horror, se ho ben capito, ma sembra promettente. E poi, dal nulla, completamente a caso, il primo video in engine di Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Ebbene sì, hanno mostrato qualcosina e lo potete recuperare tranquillamente. Il teaser, cioè il piccolo trailerino, il video in engine proprio di gameplay, sta girando per l'internet, lo trovate facilmente. Un filmato che testimonia l'impegno profuso a Virtuose con America di costruire e analizzare il colossal originario di Hideo Kojima, servendosi gli strumenti creativi integrati all'editor di Unreal Engine 5. Ebbene sì, proprio così. Non chissà che è stato mostrato, onestamente, però qualcosa sì. Sembra promettente, ma staremo a vedere. Tigo che è stato mostrato a un evento Xbox quando il reveal è stato un evento PlayStation a testimoniare, diciamo, la natura decisamente cross-platform. E che dire allora dell'esplosivo video che dà inizio alla fase open beta di The Finals o al trailer di approfondimento su gameplay di Robocop Rogue City. Entrambi due titoli che mi danno un po' da pensare, però effettivamente il potenziale ce l'hanno. E poi è arrivato Alan Wake 2, quel trailer di lancio, ovviamente già ne abbiamo parlato assai, però nel mezzo ci sono stati anche Dungeons of Interberg, gioco piuttosto peculiare, metà fra un dungeon crawler e un social sim, un trailer gestionale medievale Manor Lords, questo sembra essere veramente figo e lo devo approfondire, e poi due giochi mai visti prima, che hanno avuto il reveal proprio in questo evento, ovvero Spirit of the North 2, seguito di un titolo che mi sa tanto che devo recuperare, e Icaro, anche qui con delle scene gameplay, spezzoni in engine, che aiuta a familiarizzare con l'atmosfere, Icaro ha un action molto frenetico, sembra di vedere, sembra promettente anche questo. In sostanza, ragazzi, un evento che, vi dico francamente, io non avevo tante aspettative per questo evento qua, perché era stato presentato come una sorta di cosa secondaria, e da tanti punti di vista lo è. Però, onestamente, considerando che avevo zero aspettative, quello che è stato mostrato, onestamente io non lo trovo tanto male. Hanno mostrato un po' di cose interessanti, e penso che, vuoi o non vuoi, ci fossero un po' di titoli di cui è lecito discutere, e quindi delle novità, per quanto non rivoluzionari, comunque gradite. Non c'è però nessuna prospettiva, nel senso, ci sono dei titoli in uscita, ci sono delle piccole nuove uscite, questo non è conframmento, ora, ormai, degli Xbox Studios e dei partner che faranno arrivare i propri giochi su Xbox o su Game Pass. Quindi questo è un evento davvero piccolo, confrontato con l'offerta potenziale di Microsoft. Quindi, non dico che sia una goccia nell'oceano, ma quasi, ok? È perfino difficile giudicarlo un evento del genere. Potremmo considerarlo, a questo punto, non più rappresentativo della mostruosa quantità di IP che o sono di Microsoft o gravitano intorno all'universo di Microsoft e arrivano quindi anche su Xbox. Quindi, ragazzi, devo dire che è stato un evento che ha avuto il suo spazio, ma poi passeremo ad altro. Vedremo quando i giochi usciranno che cosa ne sarà, per così dire. Ora, è finita la telenovela, con grande sollievo di tutti, soprattutto mio. E quindi ci sono un sacco di considerazioni da fare a margine. E c'è una cosa che viene non proprio da Sony, ma da un ex di Sony. E state tranquilli, niente di Console War, niente di queste menate, né niente di tutte le menate che sono state dette durante la telenovela. Si parla di acquisizioni in generale e devo dire che il discorso potrebbe essere interessante. Vediamo un po' di che si tratta. Microsoft Activision, Sean Layden, ex dirigente di PlayStation, nutre delle preoccupazioni. Sean Layden, ex dirigente di PlayStation, ha espresso alcune delle proprie preoccupazioni in merito all'acquisizione recentemente suggellata, ma di tipo diverso. La mia preoccupazione riguarda consolidamente che spesso incide sulla creatività. Ad esempio, si prendono alcuni piccoli studi, indipendenti e selvaggi, e li si porta all'interno in un conglomerato più grande e essenzialmente il tempo rallenta quanto sei più grande. Il timore espresso sulla creatività, secondo l'ex veterano di Sony, riguarda soprattutto l'indipendenza dei piccoli studi che grandi progetti come l'acquisizione Microsoft Activision rischiano di soffocare. Se in alcuni casi le acquisizioni sono un mezzo per salvare piccoli studi destinati alla chiusura, dall'alto potrebbe finire per snaturare dal punto di vista creativo, tant'è che aggiunge. Mi preoccupa anche che, quando gli studi vengono acquisiti, invece di dar loro un modo per creare il proprio gioco, potrebbero finire assorbiti in un'impresa più grande, che sta realizzando un gioco più grande, come accade quando tanti studi vengono coinvolti nella realizzazione di giochi blockbuster che devono sorprendere. L'idea che la visione di un team indipendente venga frustrata per essere accorpata in una squadra più grande, dedicata a progetti sulla larga scala, è dunque un'altra delle preoccupazioni dell'ex capo di PlayStation. Allora ragazzi, guardate, questo discorso onestamente è interessante, ma sapete perché? Perché a mio parere non si applica molto alla strategia di Microsoft e quindi, riferito all'acquisizione gigantesca che ci è appena stata calza fino a un certo punto, anche se ovviamente alcune cose possono essere dette, ma pensate un po', invece calza perfettamente con l'azienda che è stata appena acquisita, cioè con Activision stessa. Se Microsoft nell'ultimo periodo ha dimostrato che di fatto la sua politica è l'esatto contrario, anzi da certi punti di vista perfino un po' troppo, ricordiamo il caso Redfall che vabbè lì non c'è stato tempo ma Phil Spencer è chiaro che ha apertamente detto che col senno di poi avrebbe fatto diversamente, cioè quella di lasciar fare agli studi, quindi questo pericolo, perlomeno sulla carta, per quanto sono le intenzioni di Microsoft adesso, non dovrebbe esserci. Activision invece è piuttosto famosa per fare esattamente quello che ha detto Sean Layden. Avete presente la quantità di studi che stanno lavorando a Call of Duty in questo momento? Una quantità abnorme di studi che prima avevano la loro dimensione e i loro progetti, e sono stati tutti quanti buttati via, o quasi, quasi tutti, per dare spazio a cosa? Semplicemente al franchise di COD. Ci sono, non me lo ricordo più neanche quanti, studi a lavoro, ma per fare un caso nello specifico, Toys for Bob sta lavorando a Call of Duty. E Toys for Bob sono quelli che hanno fatto l'ultimo Crash Bandicoot, per capirci, no? In sostanza il comando generale era, via tutto, bisogna fare COD. Ecco, quindi, Sean Layden in realtà non sta dicendo affatto una cosa che non si verifica nell'industria. Lo sta facendo e come? Il problema è vedere con che contesto ci si muove. Cioè, quando c'è un progetto molto grande che richiede il più risorse possibili, a volte succede che gli studi vengano assorbiti completamente all'interno di questo grande progetto e che venga azzerata, schiacciata, annichilita qualsiasi possibilità di fare dei prodotti alternativi, il che effettivamente uccide la creatività, le idee, perché appiattisce il lavoro di migliaia di persone su una singola cosa, che per carità richiede lavoro e quindi qualcuno ci dovrà pur lavorare. Però è un peccato sprecare il potenziale di studi che avevano la loro dimensione, la loro indipendenza, per metterli tutti quanti nel grosso calderone di una enorme produzione. Però onestamente Microsoft mi pare che nell'ultimo periodo non stia facendo così. E anzi, paradossalmente, studi come Blizzard, che sono stati schiacciati dalla necessità di monetizzazione dell'utente, diciamo che è stato l'assoluto, che è stato il leitmotiv di Activision per tanti anni, purtroppo, all'interno dell'acquisizione di Microsoft avrebbero da beneficiarne e Blizzard non è uno studio piccolo. Figuriamoci quegli altri. Perlomeno pare così e avremo modo di parlarne in questa puntata stessa. Quindi, secondo me, il discorso è interessante, è degno assolutamente di essere fatto ed è una realtà, però non so quanto nel concreto ora, in questo momento, si possa applicare a Microsoft. Questo non vuol dire che non possa succedere in futuro ed è giusto monitorare, però al momento non vedo questa particolare preoccupazione su questo frangente. Magari per altri sì, invece. E torniamo invece a parlare di casa Sony con una cosa che potrebbe essere un tantinello più problematica, ma adesso vediamo bene il contesto. È venuto fuori nell'ultimo periodo, diciamo, una sorta di voci di corridoio, se vogliamo, ovvero di fonti interne che parlano di un certo malcontento degli sviluppatori e degli studi interni a PlayStation per una cosa in particolare. Solo che questa cosa, francamente, ragazzi, va messa un tantinello nel contesto, quindi vediamo un po' che succede. Problemi in casa PlayStation? Fonti parlano di proteste interne per il passaggio ai giochi live service. Ebbene sì, non è la prima volta che ne sentiamo parlare, ma, ma, c'è stato un qualcosa, no? Nel corso dell'ultimo biennio, l'ex presidente e CEO di Sony, Jim Ryan, ha espresso più volte il desiderio di espandersi al campo ai videogiochi live service, ovvero quei titoli single player e multiplayer supportati nel tempo con nuovi contenuti. Ne abbiamo discusso tante volte, no? Stando a quanto riportato da David Jeff, ex game designer e autore della trilogia originale di God of War, che però ogni tanto fa delle sparate interessanti, e a volte no, vabbè, gli sviluppatori di PlayStation Studios avrebbero accolti il cambiamento con scarso entusiasmo. Arrivando persino a protestare più di recente con la causa di alcune decisioni approvate ai vertici dell'azienda. E si dice. Jim Ryan era convinto che i giochi live service sarebbero stati il futuro industria videoludica e, come ben sappiamo, ha chiesto ai PlayStation Studios di dare via alla produzione di questi titoli. Decisione poco apprezzata da sviluppatori abituati a lavorare su esperienze cinematiche single player, dice David Jeff, affermando di aver ricevuto queste informazioni da fonti estremamente attendibili, dice lui. Molti studi hanno reagito negativamente alla richiesta di Jim Ryan e la cancellazione del gioco live service di Naughty Dog è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, provocando alcune proteste che sono culminate con il licenziamento di Connie Booth, che è una cosa di cui effettivamente non abbiamo parlato e forse avremmo dovuto. Ok? Però, di nuovo, la cancellazione del gioco di Naughty Dog non è certa, eh. E l'ha detto Jason Schreier che non è certa. Jim Ryan ha abbandonato dicendo di non riuscire per trovare il giusto equilibrio tra vita privata e lavoro, ma Tom Henderson, altro insider molto attedibile, ha aggiunto che non è certo un segreto che gli sviluppatori non siano felici della direzione interpesa da Sony che nuove informazioni potrebbero venire alla luce nei mesi a seguire. E di questo avevamo già parlato, perché Tom Henderson aveva detto proprio questo. Allora, ragazzi, vediamo di parlare un attimino di questa cosa, ok? Tanto per cominciare. Questa dovrebbe suonare come una sorta di brutta notizia, vero? E qualcosa mi dice che non lo sia, in realtà per molte persone. Io sono convinto che molte delle persone che stanno vedendo questo video in questo momento e stanno ascoltando questa news siano in realtà contenti. Cioè che ci sia una sorta di rivolta interna all'interno dei PlayStation Studios per protestare contro questo cambio di rotta, questa potente virata? Ecco, quindi c'è questo. E nulla mi toglie dalla testa che ci sia stata una componente anche di questo nell'abbandono di Jim Ryan, che però sulla carta è per motivi personali e quindi li prendiamo per quello che sono, il resto sono speculazioni personali e niente di più, deve essere chiaro. David Jaffa ha detto che ha delle fonti piuttosto attendibili e molto sicure. Gli crediamo? Perché non ha mica detto cosa, quando, come, perché. Certo è una cosa va detta, non è il primo a dirlo, anche Tom Anderson ne aveva parlato e quindi possiamo dare più, diciamo, credito alla cosa. Ma la mettono in connessione con l'abbandono di Connie Booth, ok? Che è una delle veterane di Sony e questo sì potrebbe essere significativo, ma di nuovo dovremmo legare insieme tutto questo discorso, cioè dovremmo farne tutto un unico filone. E io francamente, ragazzi, prima di dire questo, io non lo so, cioè io non lo so, perché qua, se veramente uno ritiene che tutte queste cose siano connesse l'una all'altro, stiamo parlando veramente di una sorta di decisione presa dall'alto da parte di Sony che ha incontrato lo sfavore di praticamente tutti gli studi sotto Sony, tra le bungee che è stata acquisita apposta, voglio dire, quindi vabbè, e però anche esponenti di vecchia data di PlayStation. Io non so fino a che punto prendere seriamente questa roba, perché sembrerebbe piuttosto pesantina. Io, prima di dire che una cosa pesantina come questa la ritengo veramente fondata, io ci starei un po' attento. Certo è che sono un po' troppi gli indizi per pensare che questa cosa sia invece totalmente infondata. Sono pronto a scommettere che la situazione sia più del tipo alcuni studi si sono lamentati per alcune cose che sono state fatte e magari non disdegnano l'idea di lavorare un live service, ma magari non sono contenti del fatto che ci si dedichi tutte queste risorse, magari speravano di poterne sviluppare uno, due o tre e non tipo dodici. Magari questo sì. Io credo che una via di mezzo sia un po' più attenta a quella che è la realtà, per quanto ne sappiamo. Però io vi lascio con un punto interrogativo, ragazzi. Io, in base a quello che abbiamo sentito, io non mi sento di dire «Oh mio Dio, c'è crisi in casa Sony», perché francamente non lo so, ok? E oltretutto, come vi ho detto, come l'impressione che qualcuno stia gioendo in questo momento. Quindi, insomma, diciamo che rimaniamo in sospeso per adesso. Ti piacciono le news? Allora non stare in disparte come i malnati. Lascia un commento a questo video e di la tua opinione. Così Chris la può leggere, può rispondere, l'algoritmo di YouTube è contento e il video quindi va bene e Chris è felice. Scrivi un commento, così Chris è felice, la discussione si allarga e le cose. Ora, torniamo alle news. E ora passiamo al commento del giorno, che tocca un tasto a me caro da certi punti di vista, ok? Ah, veloci scrive, bellissimo video, hai visto la notizia secondo cui all'incontro con Blizzard, Phil Spencer ha detto che devono sentirsi liberi di sviluppare ciò che vogliono e come vogliono, quasi come a liberarli dalla gestione disastrosa di Kotick? Pensi che Blizzard torni allo splendore del passato? Ecco, allora, ovviamente ragazzi, senza che vi dico che questa è decisamente una cosa che desidererei. Vi dico di più, io non pensavo che avrei visto questo giorno. Ripercorriamo un attimino che cosa è successo con Blizzard nell'ultimo periodo. Quando c'è stato tutto il casino della causa, e quando c'è stato tutto il casino dei giochi veramente mal gestiti, io ho avuto un attimo di rifiuto e mi sono decisamente distaccato da Blizzard. Poi sono uscite altre cose oscene, tra cui i nuovi criteri di assunzione, e lì ci ho messo una pietà sopra, ho detto basta, non tratterò più Blizzard, mi sono rotto le scatole, non tratterò più Blizzard, a meno che non capiti qualcosa di assolutamente rivoluzionario, tipo che, che ne so, che Activision venga acquisita. Già, ed è successo esattamente questo. Quindi, voglio dire, di fronte a una situazione come questa, io avevo perso le speranze e adesso si è verificato una cosa che non pensavo possibile e che adesso invece sta, a quanto pare, diventando realtà. Però non bisogna dimenticarsi che è una cosa impotenziale, d'accordo? Abbiamo appena finito di parlare di Sony, di quello che dovrebbe essere, secondo alcune fonti, una sorta di crisi interna e di rivolta da parte degli studi di sviluppo che questi live service non vorrebbero farli e sono in polemica con la direzione dell'azienda. Ecco, non è che da una dichiarazione di Phil Spencer adesso bisogna dedurre che Blizzard ritornerà immediatamente ai fasti del passato, perché il salto logico è più o meno lo stesso. Cioè, non lo sappiamo, ragazzi, non lo sappiamo. Ok, è vero, la politica di Microsoft è questa qui, è vero. Quindi, diciamo che rispetto al passato, io penso che ci siano delle prospettive decisamente più felici piuttosto che la direzione di Activision, però prima di dire qualunque cosa di concreto, ragazzi, bisogna aspettare almeno un po'. Io ve l'ho già detto un paio di volte, ma ve lo voglio ripetere e mi sa che continuerò a farlo. Io ho deciso che mi darò un annetto, nel senso, ora la telenovela è finita, Division Blizzard è stata acquisita, ora lo sappiamo, ora è definitivo, e da adesso parte il mio personalissimo conto alla rovescia mentale. Un annetto, un annetto da ora fino a fine 2024, vediamo cosa fa Blizzard. Una primissima avvisaglia potrebbe essere la BlitzCon che arriva adesso il 3 novembre, ma francamente non mi aspetto chissà quali incredibili rivoluzioni. Sarà, secondo me, molto più importante la BlitzCon del 2024, perché lì porteranno sul palco e nella Kermess delle cose che sono frutto di un'acquisizione che ormai si è stabilizzata. Quindi è la mia prospettiva, ragazzi, è questa e io vorrei andarci cauto perché onestamente un'azienda che ha combinato quello che ha combinato e ha deluso così tanto prima di acquisire la fiducia dei giocatori di passi ne deve ancora fare e molto concreti. Io vi ho già detto più volte che uno dei segnali che considererei veramente rappresentativi di un cambiamento di rotta potente dentro Blizzard sarebbe il rifare Warcraft 3 Reforged. Perché quella schifezza di cosa che è una mancanza di rispetto al franchise di Warcraft e a una delle leggende del videogioco, mi viene da dire, Warcraft 3, è una macchia sulla reputazione dell'azienda e se decidessero a un certo punto di rifarlo, mettendoci soldi, sapendo di non guadagnarci molto, anzi probabilmente perdendoci qualcosa, pur di cancellare questa macchia e riprendere la fiducia dei giocatori, ecco, quello. Quello potrebbe essere un genuino, concreto, reale, ottimo segnale. Vogliamo rimediare agli errori del passato. Passando anche da questo. E adesso lo possiamo fare. Vediamo, ragazzi. Quello potrebbe essere. È un esempio. Vediamo che succederà. E ora, ragazzi, passiamo con le news a ruota. PS Plus Premium sorpreso, una nuova icona segnala i giochi PS5 in cloud streaming. Con l'avvenuto lancio del cloud streaming dei giochi PS5 su PS Plus Premium, Sony ha ben pensato di apportare una piccola ma significativa modifica, accedendo alla console con le credenziali e un account iscritto al tier premium. Gli utenti possono infatti notare una nuova icona che segnala la possibilità di avviare un videogioco PS5 direttamente dal cloud streaming. I titoli sono quelli che possono essere avviati in streaming su PS5 cliccando sul tasto Options. È disponibile in Europa dal 23 ottobre, quindi in realtà è già disponibile. Lo potete controllare. Sono diverse opzioni di risoluzione e qualità grafica, 4K, 1440p, vabbè, tutto quanto, 60fps, uscita SDR o HDR. e anche compatibilità con chip Tempester di AudioTech sono 5.1 e 7.1. Niente da dire a riguardo ragazzi una puntualizzazione di una cosa che è successa, diciamo, abbastanza di recente e che è stata anche un tantinello confusa, devo dire. Però dai, adesso a quanto pare sono disponibili, quindi se avete il premium e volete giocarlo in cloud sapete come fare. Poi, Marvel's Spider-Man 2, Insomniac svella i segreti tecnologici dell'esclusiva PS5. Questa è più una cosa che vi raccomando di andare a vedere. Se siete interessati al lato tech di uno dei giochi che sfoggia un comparto tecnico veramente interessante, ovvero Spider-Man 2, su PS5, c'è un bel approfondimento di Digital Foundry fatto intervistando Mike Fitzgerald di Insomniac Games che è uno dei boss del settore tecnologico di Insomniac e quindi probabilmente una delle persone al mondo più esperte nel settore che ha parlato proprio con appunto il Director of Core Technology di Insomniac Games per le sfide affrontate ai programmatori per un'impalcatura grafica ludica e prettamente tecnologica adatta a sorreggere le ambizioni e al team creativo di Insomniac. L'impegno per migliorare gli effetti di ray tracing, sfruttare le risorse computazionali di PlayStation 5 eccetera eccetera. È interessante, andatela a vedere perché soprattutto per quelli appassionati di queste cose potrebbe essere davvero interessante. Io me lo sono visto, è un po' da nerd la cosa, però è figa. Poi, Final Fantasy VII Rebirth tra longevità e livello di partenza tutte le novità. amicofoni di This is Game, Noki Yamaguchi, il creative director Tetsuya Nomura e il producer Yoshinori Kitase, questo trio ha svelato che il gioco ha una longevità media di 40 ore, durata è l'avventura per chi non si dedicherà troppo alle attività secondarie, quindi quelli che punteranno al completismo si parla di circa 100 ore per il 100% di Final Fantasy Rebirth, personaggi partiranno dal livello medio raggiunto al termine della precedente avventura e però, a precisare, il livello sarà uguale per tutto anche se avrete i salvataggi di Final Fantasy VII Remake non potrete importarli in alcun modo, il che è un peccato, però si può capire che questa scelta sia stata fatta per una ragione, quindi sono queste informazioni in più e vabbè, manca ancora un po' all'arrivo di Rebirth, quindi, insomma, noi stiamo recuperando il live Final Fantasy VII Remake apposta e a proposito, controllate il mio secondo canale YouTube per la serie o ci vediamo in live su Twitch per continuare a giocarlo insieme. E infine, una cosa che ho trovato interessante di Elder Scrolls VI Bethesda l'ha annunciato troppo presto ma c'è un motivo preciso in sostanza l'ex lead designer Bruce Nemsmith ha parlato del fatto che secondo lui che ha lavorato per diversi anni in Bethesda prima di lasciare la compagnia nel 2021 ha lasciato intendere che l'annuncio di Elder Scrolls VI avvenuto nel 2018 è stato dettato da pressioni non specificate quali che hanno spinto Bethesda a rivelare il progetto al mondo prima del previsto l'opinione di Todd che talto condivide che l'industria videogioca ha la memoria corta quelle aziende che iniziano a pubblicizzare i propri giochi con anni di anticipo in realtà si fregano da sole e il momento migliore è sei mesi prima del rilascio Ned Smith si limita a dire che tutti erano già ad agitare torce e forcone e il risultato è stato l'annuncio prematuro rispetto ai programmi iniziali ora non è dato sapere bene di preciso quali fossero queste pressioni ma a quanto pare diciamo che Bethesda si è sentito obbligata a rivelare in anticipo questa cosa in effetti me lo sono sempre chiesto perché è stato fatto forse perché c'era il dubbio che lo facessero mai o qualcosa del genere che cominciava a essere pesante questo dubbio non lo so francamente risulta un po' incomprensibile dato la quantità di tempo che poi passa dall'arrivo del gioco e ancora non ne abbiamo idea abbiamo solo una vaga figura ok si ci sarebbe quel leak di Microsoft ma quello è roba vecchia che verrà aggiornata mille volte quindi in tempo che non sia rappresentativa effettivamente una cosa interessante questo è un gioco che è stato annunciato ormai si parla di 5 anni fa no? è però niente zero non sappiamo assolutamente nulla e dubito che nel 2024 sapremo qualcosa eh ragazzi penso che Bethesda stia zittina ancora vabbè stiamo a vedere ragazzi per ora decisamente no notizie e per quanto riguarda l'offerta del giorno ragazzi oggi diciamo un titolo major Super Mario Bros. Wonder Switch Europe è in sconto su Instant Gaming ebbene sì proprio il codice per Switch uno sconto piccolo solo del 7% ma rispetto agli standard Nintendo direi che comunque è qualcosa ok? perciò se volete risparmiare qualcosina sul nuovo titolo di Super Mario che talto io sto giocando ancora e devo dire che sta procedendo sono quasi credo alla fine ed è molto bello mi sento di consigliarvelo già da ora costa 55,79 lo so poco sconto ma dati gli standard Nintendo è comunque qualcosa come sempre vi ricordo che io sono partner ufficiale di Instant Gaming perciò se volete prendere il gioco attraverso il link in descrizione a me arriva qualcosa quindi un buon modo per supportare il canale il mio lavoro e il format delle news bene gente è tutto per le news di oggi grazie mille per aver visto questo episodio noi ci vediamo al prossimo e come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al primo canale e al secondo canale scusate seguitemi su Twitch lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram tutti i link per supportare il canale tra cui i link affiliati ad Amazon Instant Gaming e link a Patreon e anche il link alla playlist con tutti i miei le caselle news che come sapete escono ogni giorno alle 7 su YouTube e sul podcast a domani ragazzi